Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Con chi è fidanzato il figlio di Gigi D'Alessio? Da Lorella Cuccarini ecco svelate alcune indiscrezioni Scopriamone di più leggendo insieme l'articolo.Il giovane cantante LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio nonché figlio del più noto Gigi, nonostante abbia seguito le orme del padre, ha sempre cercato di tracciarne una distanza, ritagliandosi una sua dimensione e un certo grado di autonomia Anzitutto decidendo di adottare uno pseudonimo che altri non è che l'anagramma del suo nome e cognome Giovanissimo dimostra il suo talento vincendo un disco di platino con il brano Quello che fa male I suoi singoli hanno ottenuto il convinto apprezzamento del pubblico come pure il buon giudizio della critica Lo scorso giugno in occasione del concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, in suo onore LDA si è esibito sul palco di piazza del plebiscito a Napoli, mentre l'evento veniva trasmesso in prima serata su Rai 2 Oltre a quello che fa male, altri pezzi molto graditi dai fan sono stati Sai e Scusa, presentati anche ad Amici di Maria De Filippi Si tratta di canzoni d'amore che raccontano storie giunte al Copolinea, che però rivivono nei ricordi Luca D'Alessio ha con il padre uno splendido rapporto, anche se non perdi occasione per distinguersi da lui Ho voluto far capire che io sono un'altra cosa rispetto a quello che fa papà Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi Siamo il giorno e la notte nella musica, ha detto il ragazzo La confessione del giovane.Nello studio di Dimmi di te, format condotto dall'ex ballerina ed ex insegnate ad Amici, Lorella Cuccarini, LDA si apre il cuore in mano e racconta alcuni aspetti della sua vita privata Il suo è un viaggio panoramico che parte dalle emozioni che gli ha suscitato Amici, il programma di Maria De Filippi, fino a giungere al rapporto con i compagni d'avventura conosciuti durante il Talent, quindi Alex, al benunzio Poi la rivelazione su suoi attuali sentimenti. Incalzato dalla Cuccarini, alla domanda se sia o meno innamorato, LDA ha risposto Per me innamorato è un parolone, sono molto interessato a una persona È una bellissima persona, ci stiamo conoscendo. Se sono rose fioriranno. Dice il poeta Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video